Doppia novità in organico, Leonardo Taurino, anni 22, professione esterno d'attacco, squadra di appartenenza a Ternana, è lui il primo rinforzo della Fidelis, è lui la prima operazione in entrata messa a segno dalla dirigenza dell'Andria nella sessione invernale del mercato che ha aperto i battenti lo scorso 3 gennaio e si concluderà, lo ricordiamo, l'ultimo giorno di questo mese alle ore 23, nei due campionati più recenti ha giocato in terza serie prima a Martina, poi a Caserta, collezionando complessivamente 27 presenze, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio adeguato invece nella prima parte di questa stagione, con la maglia degli Umbri nel campionato di serie B, ora Taurino proverà, pur scendendo di categoria, a riscattare l'apparentesi poco esaltante del libero Liberati, arriva con la formula del prestito. Avevamo parlato nei giorni scorsi intanto di un'asse molto caldo tra Terni ed Andria, seguito dai biancazzuri infatti è anche il 22enne centrale difensivo Nicolo Gigli, che però piace pure al Matera, è fatta inoltre per l'arrivo al degli Ulivi del giovane Giuseppe Scalera, 19enne terzino destro del Bari, che resta titolare del cartellino, seguito in precedenza anche da Biceglie e Monopoli, l'ultima idea per il centrocampo biancazzurro intanto risponde al nome di Pietro Baccolo della Paganese. Gli elementi in uscita invece sono sempre i soliti, da Corcio vicinissimo a Brescia, a Croce anche se Papanni proverà a tenerlo in rosa, passando per Rada, Pipoli e forse anche De Giorgi, ma al momento ancora nessuna novità ufficiale, il Biceglie per rinforzare il proprio reparto offensivo sarebbe sulle tracce di Marco Duganzic, 23enne, croato, in forza al Matera, congelata. Per il momento la trattativa per il passaggio dai Lucani a Lecce di Nicola Strambelli, poco gradito alla piazza giallorossa, ma mai dire mai, sino al termine del mercato. In serie D, un gran colpo a centrocampo lo piazza il Cerignola che si assicura le prestazioni dell'esperto Stefano Maiorano, uno che vanta quasi 200 presenze tra i professionisti. Il Nardò nei giorni scorsi ha perfezionato l'arrivo in prestito di Francesco Di Cosola proveniente dal Monopoli, nuova idea infine per la panchina del Manfredonia che oltre a Fabio Di Domenico e Massimiliano Olivieri sta sondando la disponibilità di Oberdan di aggiori possibile l'accordo tra le parti.